Ciao ai lettori del Centro Ricerche Valassinesi e di ACR Onlus, siamo a Canzo e stiamo inquadrando il cippo di un grande uomo politico, Filippo Turati. Vediamo se si legge, perché ormai non si legge più niente di quello che ha scritto qua. Tutti gli anni si veniva a rendere omaggio a questo insigne canzese di Filippo Turati, si legge a fatica, nato a Canzo nel 1857 e morto in esilio. Questo fu vero esilio, non fu fuga se non dall'oppressore fascista, senza polemiche con nessuno. Ciao Filippo, noi abbiamo anche il club Filippo Turati che è insieme al Centro Ricerche e a nome di questo club che ha fondato il Civenese, il Civenese nel triangolo lariano e il valassinese, nonché il Bellagino, ci onoriamo di essere tuoi seguaci. Per un Filippo Turati che ha saputo fondere l'animo nobile del socialismo, in un socialismo democratico e liberale, ma soprattutto un socialismo italiano. Ciao Filippo, onore alla tua grande, grande vita di statistica.